Tutta la struttura della fotografia cinematografica era italiana. Il binomio Festa del Cinema di Roma con Cinecittà sono un'esplosione anche di gioia e di festa. Oggi abbiamo dato una serie di riconoscimenti a un grande maestro che ha l'Italia nel sangue. Gli piace essere chiamato Francesco e non Francis. Lui è un maestro ovviamente del cinema. Noi non neghiamo le nostre radici, vogliamo affondare dentro la storia del nostro cinema che è così importante, però siamo proiettati nel futuro. Dopo la Cinecittà è già di per sé una notizia, fermo restando che noi guardiamo con grande aspettativa e attesa i grandi del cinema mondiale e poi quando li intervistiamo loro dicono che il loro mito è Cinecittà. Buongiorno, maestro, I know about the street that they dedicated to you today. Are you excited about that? What do you feel? It's a wonderful honor. I didn't expect to have a street in Cinecittà, but may the street be walked upon by young film directors for the next 50 years. And I know you got a special memory about Nino Roda in an airport when he first let you... We were having difficulty coming up with the song because I wanted it to sound a little Arabic, you know, because it was Sicilia. He sang it to me as we walked. He was a wonderful man. L'avere Francis Forcopola quest'anno è un sogno che si realizza soprattutto per i giovani. Incontrerà domani 200 ragazzi delle scuole di cinema, la giuria di Alice nella città e la lupa in Campidoglio. Davvero una celebrazione dalla preapertura alle grandi premiazioni e gli incontri di formazione. Francis, you know I love you. I love you forever. Thank you.